Ricominci da tre, ricominci da zero, non signor, ricominci da zero, tre cose mi sono riusciti in da vita perché ho già perduto pure questo? Troisi è veramente un grande regista, mi ha sempre influenzato, Totò, Peppino, Massimo, Staglioglio, Chaplin. Chi è più bravo tra me due? Ma che non esista, non ho discorso. Sto giovane e bellissimo, chiede. Il cinema di Troisi per me era bello perché aveva la forma della vita. Per te l'amore che cos'è? L'amore? Esasperazione. Massimo è sempre rimasto vivo nell'immaginario collettivo perché era una grande anima e un grande artista. Ma quanti siete? Uno, io sono andato e sono uscendo. I gesti di Massimo che gli consentono di farsi capire anche da chi non è napoletano. Facciamo questo film per riascoltarlo, rivederlo, stare con lui. Ragazzi, io vado incontro alla vita, come tutti quanti. Grazie a tutti.